Buongiorno a tutti, è stata la settimana di Sanremo, la settimana nella quale gli italiani hanno ritrovato improvvisamente il loro amore per la patria grazie all'ora o quasi di performance di Roberto Benigni sull'ino nazionale e d'intorno, naturalmente non è qua in discussione la bravura di Benigni che è stato sicuramente bravissimo, soltanto un grande attore può tenere incollati per 50 minuti milioni e milioni di italiani, il cui livello di attenzione grazie a questo modello televisivo è pari a quello di un lombrico incollati al video per parlare di risorgimento, di mameli, di valori, di storia, di cultura, quindi non è in discussione sicuramente Benigni che ha fatto una grandissima performance, in discussione magari è il messaggio che è uscito da quella performance, a me quando l'ho rivista il giorno dopo su YouTube aveva lasciato in qualche modo perplesso il messaggio che ne usciva, anche se non riuscivo bene a esprimere quel disagio che sentivo nel riascoltare Benigni e devo dire grazie a Natalino Balasso che è un altro bravissimo attore, chi ha partecipato al V-Day lo conosce perché era presente al V-Day mi pare a Torino e Natalino che ha un blog sul sito ilfattoquotidiano.it oggi ha trovato le parole giuste per rendere quello che almeno io sentivo e non riuscivo a esprimere, il suo post si intitola retorica di sinistra, è molto breve quindi ve lo leggo, ho sempre trovato vacuamente retorico l'inno di Mameli, non per il buon Mameli che era anche tanto giovane e quindi giustificabile, ma perché qualunque inno è necessariamente retorico, ora che lo canta Benigni non vedo perché dovrei cambiare idea, se poi dovessimo cantarlo tutto intero ci sarebbero anche strofe a dir poco imbarazzanti per chi crede nella democrazia, che l'Italia sia unita nella crescita culturale e sociale di un Paese mi va bene, che l'Italia sia unita nella retorica del volemmo sebbene o dell'orgoglio dei soldati no, l'orgoglio è un sentimento pericoloso, non vedo perché dovrei sentirmi orgoglioso di essere italiano quando questo dovrebbe significare che preferisco essere italiano invece di francese o lettone o curdo o israeliano o americano, mi sarebbe indifferente appartenere a qualsiasi nazionalità perché ritengo che l'amor patrio sia una cosa vuota oltre che pericolosa e in fondo non è da questo che nascono le guerre, non è dagli inni nazionali, non è dallo stringiamci a coorte, dalle bandiere, quando al telegiornale danno notizia di un disastro o di un attentato all'estero si affrettano a dire che fra le vittime non ci sono italiani, ma fatte salve le preoccupazioni degli eventuali parenti delle vittime, per quale motivo dovrei sentirmi sollevato se fra centinaia o migliaia di morti non ci sono italiani? Non sono morti gli altri? C'è da dispiacersi meno se i morti non parlavano la nostra lingua? Rispondere alla retorica della Lega con una retorica ancora più vecchia non mi sembra cosa utile. No, Benigni che canta l'inno nazionale non mi commuove affatto e a dire il vero mi preoccupa una sinistra che sembra rispondere alla mancanza di moralità e all'arroganza dei governanti con un bigottismo cieco o un'avacqua retorica. Credo che l'amor di patria sicuramente faccia parte delle nostre radici, il fatto di nascere qua non ci deve rendere indifferenti, anche se amare l'Italia non vuole dire per questo detestare tutto ciò che non è Italia o che non viene di lì. Credo che Balasso abbia ragione sulla pericolosità di questa retorica, soprattutto in un momento come questo, perché un momento come questo alla vigilia delle celebrazioni, immaginate i fiumi di saliva, l'orgia proprio di retorica che ci sarà per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia, rischia di diventare non un'occasione per riflettere sulla storia e sul fatto che 150 anni fa c'erano persone anche molto giovani che in Italia avevano dei valori ed erano risposti addirittura a morire. È chiaro che oggi fa ridere l'idea che uno prenda le armi per un ideale, bisogna calarsi naturalmente nella cultura di quel periodo che era la cultura del romanticismo, dei nascenti nazionalismi, anche se non erano ancora sfociati ovviamente nell'aberrazione dei fascismi. Quindi bisogna contestualizzare, è ovvio che Mameli oggi non avrebbe senso, il fatto però che ci fossero degli ideali per i quali qualcuno era disposto a morire è sicuramente una frustata a tutti quelli che pensano soltanto a tirare a campare, alla pagnotta o a stare sempre dalla parte dove tira il vento. Invece il rischio è che questi 150 anni con questo tipo di retorica da volemose bene diventino così un'occasione per annullare le differenze, per annullare il dissenso, per annullare le voci critiche e per organizzare un gigantesco abbrassonnu dove non si riesce più a distinguere quello di cui dobbiamo essere orgogliosi e quello di cui invece dobbiamo vergognarci. Io personalmente in questo momento se dovessi dire che sono fiero di essere italiano direi una bugia, io mi vergogno di essere italiano e quindi come fanno quelli che si vergognano di essere italiani a celebrare i 150 anni insieme a quelli che diranno di essere fieri di essere italiani? Io sarei fiero di essere italiano se la classe politica fosse quella di 150 anni fa, ma oggi la classe politica è il contrario di quello che era molto diverso da 150 anni fa e come si fa a festeggiare lo stesso evento quelli che si vergognano oggi di essere italiani proprio perché sarebbero fieri di esserlo con la classe politica e con il popolo italiano di 150 anni fa che era molto diverso da quello di oggi, insieme a coloro che invece non vedono nessuna differenza o magari pensano addirittura che al governo abbiamo cavurre di vivo, non dimentichiamo che abbiamo al governo uno psicopatico che ha addirittura dichiarato di essere il più grande Presidente del Consiglio degli ultimi 150 anni, non so se abbia detto italiano o se abbia lasciato più nel vago la cosa in modo che qualcuno potesse pensare che lo è addirittura a livello mondiale o non poniamo limiti planetario o intergalattico. Questa è una riflessione che tenevo a fare perché è evidente che ci sarà un po' questo ricatto morale, dice tu non festeggi, tu non partecipi al 150 anni, allora sei leghista, no, una delle ragioni per cui mi vergogno di essere italiano è che al governo abbiamo, non la lega in generale, abbiamo questa lega come è diventata, come si è trasformata e come è degenerata con ciò che vedete tutti i giorni. Tra l'altro, piccolo aneddoto che forse non è stato evidenziato troppo dai giornali e capirete il perché adesso quando ve lo racconto. Vi ricordate il Ministro, chiamiamolo così, Calderoli, Ministro della semplificazione normativa che qualche mese fa apparve all'improvviso in una piazza munito di lanciafiamme di fronte a un cumulo gigantesco di carte e cominciò a bruciarle, fece un grande falò di queste carte e raccontò poi che queste carte altro non erano se non le 375 mila leggi inutili che lui aveva astutamente individuato nel primo anno e mezzo di legislatura, come abbia fatto a scovare 375 mila leggi inutili in meno di un anno e mezzo, nessuno l'ha mai capito perché ci vuole del tempo comunque per leggere queste 375 mila leggi inutili, evidentemente ha uno staff molto rapido, forse esperto anche in lettura veloce, in lettura diagonale, ma soprattutto come fa l'Italia ad avere 375 mila leggi inutili, visto che secondo Tremonti le leggi in Italia non superano le 150 mila unità, se abbiamo meno di 150 mila leggi come ha fatto Calderoli a trovarne 375 mila inutili in aggiunta poi a quelle utili che immagino saranno anche quelle qualche decina di migliaia, in realtà aveva sparato il solito numero a casaccio fidandosi ciecamente del mondo della disinformazione che invece di andare a controllare le cose prende per buono ciò che racconta il potere e lo rilancia. Gian Antonio Stella calcolò che per approvare 375 mila leggi, il Parlamento italiano avrebbe dovuto lavorare giorno e notte ininterrottamente per tutti i 150 anni della storia dell'Italia unita, compresi i weekend, comprese le vacanze, compresi i periodi di guerra e approvarne le leggi inutili, 7 al giorno, più quelle utili, voi immaginate come può aver fatto il Parlamento ad approvare 7 leggi inutili al giorno, più quelle utili, è evidente che stiamo parlando di numeri folli, di numeri inventati naturalmente, la tragedia è che tra le leggi che Calderoli ha bruciato e che sono evidentemente molte meno di 375 mila, ce ne erano alcune utili che così evidentemente in una fiammata incontrollata hanno preso fuoco pure quelle. Per esempio il reggio decreto del 1866 che annetteva all'Italia il Veneto e un altro reggio decreto che annetteva la città di Mantova e una legge che stabiliva che il Canal Grande è di proprietà della città di Venezia, quindi il risultato è che bruciate quelle leggi oggi è come se il Veneto non fosse stato annesso all'Italia, è come se Mantova non fosse italiana ed è come se il Canal Grande non fosse veneziano, quindi non si capisce di chi è il Veneto, di chi è Mantova e di chi è il Canal Grande, perché anche lui così ogni tanto gli parte il lanciafiamme e brucia qualcosa, il Ministro Piromane con gli occhi fuori dalle orbite, in queste mani siamo, quindi c'è anche il caso che il 17 marzo quando il Capo dello Stato avvierà le celebrazioni l'Italia non abbia più i confini definiti che conoscevamo fino a qualche tempo fa, magari ci facciamo ridare pure Nizza e Savoia dalla Francia, magari molliamo l'Alto Adige all'Austria, magari richiamiamogli Asburgo, non si capisce bene quali siano, tanto per dirvi, la serietà della nostra classe politica in questa lunga fase. Quindi personalmente credo che ci siano molti motivi per vergognarci in questo momento di essere italiani. L'altro giorno sul fatto abbiamo raccontato un caso veramente avvincente e cioè un Ministro dello Sport e della Cultura che si dimette perché sono uscite alcune sue foto che lo ritraggono abbracciato a delle ragazze molto giovani e in una foto lo si vede con la mano su una chiappa di una di queste ragazze e più in altre ci sono dei balli, dei baci, degli abbracci, è la festa di San Valentino. Questo Ministro si chiama Josef Abinezza o Abinezza ed è Ministro del governo ruandese o meglio era Ministro del governo ruandese perché quando sono uscite quelle foto si è dimesso all'istante. del governo ruandese, naturalmente ogni riferimento a persone o fatti o cose accadute in Italia è puramente intenzionale, nel senso che da noi c'è un Presidente del Consiglio che non solo è stato fotografato con le mani addosso a delle ragazze, ricordate le foto di Villa Certosa, ma è rinviato a giudizio per induzione alla prostituzione minorile e per concussione, ma a differenza che nel Ruanda in Italia non si usa di mettersi per queste quisquiglie e noi dovremmo dirci orgogliosi di essere italiani visto che a rappresentarci nei festeggiamenti per i 150 anni non è Cavour e nemmeno Abinezza è Silvio Berlusconi? Noi siamo di fronte a un Maghreb in fiamme, la rivolta in Tunisia che ha liberato la Tunisia da un dittatore che avevano messo lì i nostri governi. Ben Ali era stato sistemato al posto di Bourguiba da un golpe pilotato dai nostri servizi segreti, come raccontò a suo tempo all'ex capo dei servizi italiani, era un golpe pilotato da Andreotti e da Craxi e infatti Craxi fu poi accolto dal golpista che governava in Tunisia, i tunisini se ne sono liberati, l'hanno cacciato a pedate, naturalmente Berlusconi si è schierato con Ben Ali, dopodiché la stessa cosa è successa con Mubarak che governava da 30 anni ininterrottamente senza problemi, Berlusconi si è schierato con Mubarak, infatti Mubarak è immediatamente finito. Adesso c'è Gheddafi forse in fuga e ancora una volta l'unico governo che si schiera con Gheddafi che non condanna la feroce e sanguinosa repressione in Libia è naturalmente il governo italiano con questa nullità, con questo vuoto che cammina di Frattini che non avendo ricevuto ordini dal capo balbetta e intanto il capo ha già detto che lui non telefona a Gheddafi perché ha paura di disturbarlo e in effetti non disturbate il massacratore, questa è la regola della nostra politica estera e questo era anche il titolo del fatto di ieri. E noi dovremmo essere orgogliosi di essere italiani avendo una rappresentanza di questo livello regolarmente eletta sulla base della porcheria di legge elettorale che abbiamo dalla coalizione che ha raggiunto il maggior numero di voti alle elezioni, mica da un governo golpista, anche se poi sappiamo benissimo con quali condizionamenti questa maggioranza mediatici e non solo questa maggioranza viene eletta. Dovremmo essere orgogliosi di essere italiani mentre il Presidente del Consiglio tenta un'altra volta di sfuggire ai suoi processi riformando la giustizia, le intercettazioni, se vuole mettere di nuovo in galera i giornalisti, parla di un modello americano dove invece in galera ci vanno i politici e le intercettazioni escono tranquillamente sui giornali come in tutte le democrazie, vuole riformare la Corte Costituzionale perché dice che boccia le leggi che piacciono a lui, il problema è che la Corte Costituzionale ha proprio questo compito, bocciare le leggi incostituzionali e siccome quelle che piacciono a le leggi incostituzionali è ovvio che la Corte le bocci, ma non lo fa perché ce l'ha con lui, lo fa proprio perché questo è il suo compito, bocciare le leggi incostituzionali. Allora lui ha avuto un'idea veramente geniale, ha detto mettiamo il quorum dei due terzi, se la Corte Costituzionale non raggiunge un voto dei due terzi o l'unanimità, la legge rimane in vigore anche se è incostituzionale. La ragione è molto semplice, sapete dalle intercettazioni dell'indagine sulla P3 che Berlusconi è riuscito a mettersi in tasca 5 o 6 giudici costituzionali, è evidente che se ne controlla 5 o 6 e devono essere in 10 per dichiarare incostituzionale una sua legge perché in tutto i membri sono 15, se lui ne controlla 6, 10 non saranno mai a bocciare una sua legge, saranno al massimo 9 e quindi le leggi incostituzionali resteranno in vigore, questo è il calcolo matematico che lui ha fatto. Il problema è che non ha calcolato una cosa che mettono in rilievo due ex Presidenti della Consulta, Onida e Zagrebelsi, i quali dicono che la Corte non è mica un organo politico dove si può mettere la maggioranza semplice, assoluta, due terzi, quattro quinti, sei decimi, sei noni, quello che si vuole, la Corte Costituzionale è un tribunale, è il tribunale delle leggi, giudica le leggi, alla fine del tra virgolette processo a una legge deve uscire una sentenza che dichiara o costituzionale o incostituzionale la legge, non ci può essere il pari, non ci può essere la X, non ci può essere il non so, invece con questa legge noi avremmo che la Corte si esprimerebbe a maggioranza per l'incostituzionalità di una legge, quindi sapremmo che la legge è incostituzionale, ma dato che la maggioranza non è dei due terzi non potrebbe bocciarla questa legge e quindi avremmo delle leggi incostituzionali che restano in vigore perché la Corte è paralizzata, ovviamente non riuscirà mai a fare queste cose, ma il fatto che le concepisca, che le dica e che trovi qualcuno che intorno a lui le avalla è abbastanza per dire che ci vergogniamo di essere italiani, come ci vergogniamo di essere italiani nel leggere sui giornali che ci sono esponenti del centro-sinistra da Violante a Circana, Circana a Franco Marini, ad altri che vogliono dare un salvacondotto a Berlusconi e sono d'accordo per il ritorno all'immunità parlamentare e in una forma molto peggiore di quella che c'era prima del 1993 perché l'immunità parlamentare prima del 1993 non esisteva, esisteva la possibilità per il Parlamento di bloccare quei rarissimi processi nei quali ci sia un fumus persecuzionis che va dimostrato e cioè che non ci siano notizie di reato sul politico, che ci siano invece le prove che il magistrato che indaga sul politico ce l'ha con lui per motivi politici, in quel caso assolutamente eccezionale si può bloccare il processo, altrimenti l'autorizzazione a procedere va data, sempre. La proposta che fanno invece questi qua, firmata da uno del PDL tale Luigi Compagna e da una del PD tale Franca Chiaromonte, figlia d'arte, d'Alemiana naturalmente, qual è? È che il magistrato fa le indagini e al momento di chiedere il rinvio a giudizio manda le carte al Parlamento e il Parlamento ha 90 giorni di tempo per bloccare il rinvio a giudizio, se lo blocca il processo si farà quando quello si deciderà di uscire dal Parlamento, se invece non lo blocca il processo si fa subito, ma conosciamo benissimo i comportamenti della maggioranza di centrodestra e abbiamo visto come si comportava in casi analoghi la maggioranza di centrosinistra, quando c'è un politico da giudicare si mettono regolarmente d'accordo e lo salvano, l'hanno fatto per gli arresti di Previti, dellutri, di Cito, di Firrarello, di tanti altri per i quali era stato chiesto l'arresto, l'hanno fatto per le intercettazioni e per l'arresto di Cosentino, lo fanno sempre, una mano lava l'altra, figuratevi una legge che dicesse potete bloccare entro 90 giorni i processi, bloccherebbero tutti i processi ai politici, non c'è più scritto che lo possono fare soltanto per il Fumus Persecutionis, c'è scritto che lo puoi fare perché il politico non deve essere disturbato durante l'esercizio delle sue funzioni e quindi con questa scusa, figuratevi, lo facevano già prima di abusare dell'immunità, quando era necessario dimostrare il Fumus Persecutionis e loro lo dichiaravano sempre a prescindere, figuratevi se adesso non dovessero nemmeno dichiarare il Fumus Persecutionis, che vergogna sarebbe! Ci sono esponenti del centro-sinistra, ve li ho nominati, Violante, Marini, Circana, Franca Chiaromonte e altri e chissà chi c'è dietro di loro, che sono disponibili a votare una porcheria del genere, perché è naturale che una porcheria del genere se non ottenesse il quorum dei due terzi, questo sì necessario per le leggi costituzionali, la legge sarebbe poi sottoposta al referendum e pensate che bel referendum, un referendum in cui si chiede ai cittadini volete immunizzare 950 deputati e senatori qualunque reato abbiano commesso, pensate come finirebbe, pensate come finirebbe, altro che il 93% che abolì il finanziamento ai partiti nel 1993. Quindi vergogniamoci per questa classe politica che rappresenta l'Italia, altro che festeggiare, vergogniamoci di un Parlamento la cui maggioranza ha appena votato una deliberazione, la Camera, 315 voti, in cui si dice che Berlusconi telefonò in questura perché preoccupato da una crisi internazionale nel caso in cui Mubarak avesse saputo che sua nipote era stata trattenuta in questura perché fermata per un furto, a parte il fatto che non si capisce per quale motivo Mubarak dovrebbe meravigliarsi se in Italia le ragazze che rubano vengono portate in questura e dove dovrebbero essere portate, secondo voi dove le portano in Egitto? Il problema è che in Egitto non escono più, mentre qua telefona il Presidente del Consiglio e se sono amiche sue escono, in secondo luogo per quale motivo Mubarak avrebbe dovuto offendersi del fatto che in Italia si arrestano le ladre, ammesso che quella fosse sua nipote. Il problema è che immaginate se Mubarak avesse saputo che sua nipote fa la prostituta e che presta servizio ad Arcore nella villa di Berlusconi, lì sì che ci sarebbe stato l'incidente diplomatico, visto che poi non è lo zio di Rubi, pensate quando ha saputo che Berlusconi spacciava per vera una notizia falsa e cioè che una prostituta che lui frequentava minorenne e che riempiva d'oro e di regali era la nipote di Mubarak, ma vi farebbe piacere sapere che c'è un Presidente del Consiglio di un altro Paese che va raccontando che voi avete una nipote che fa la mignotta? L'ho detto l'altra sera d'anno zero, altro che incidente diplomatico, ci avrebbe dovuti bombardare se avesse saputo che cosa andava raccontando in giro Berlusconi, per sottrarre una ladruncola dalla Questura, che poi non si capisce che cosa le avrebbero potuto fare in Questura, non era mica una manifestante no global, i manifestanti no global di solito escono con la faccia a forma di termosifone, visto che li sbattono contro i termosifoni quando sono fortunati, ma non mi risulta che alla Questura di Milano torturino le ragazzine minorenni sorprese per un furtarello e poi se fosse così il Presidente del Consiglio dovrebbe intervenire per evitare violenze, se lui pensa che una ragazza minorenne in Questura rischia per cui lui la deve salvare. Il Parlamento è riuscito a prendere per buono questa bufala alla quale non crede nessuno dei 315 che l'hanno votata, che l'hanno approvata e quindi ci dobbiamo vergognare di essere italiani perché la maggioranza parlamentare che rappresenta purtroppo la maggioranza degli italiani ha votato una cosa del genere e non è successo niente. Tutti i difensori della sacralità del Parlamento non sono in sorti dicendo ma a quale vergogna si sta piegando il Parlamento e poi ci dobbiamo vergognare per la casta trasversale che ancora una volta ha dato grande prova di sé con lo scandalo a Fittopoli Quater Quinquies, non saprei più nemmeno numerarlo perché a Fittopoli 1 fu quella tirata fuori dal giornale di Feltri nel 1995 quando si scoprirono politici di destra e di sinistra che affittavano da enti previdenziali case di gran lusso pagandole una miseria. D'Antoni, ricordate che all'epoca era un sindacalista, adesso è un parlamentare del PD e per essere più vicino agli operai stava in un attico dell'Impdai da 219 mq ai Parioli con due vasche idromassaggio jacuzzi e pagava 1.200.000 lire al mese. Ricorderete D'Alema che viveva in un 150 mq dell'Impdai a Trastevere, pure lui con un affitto da favola naturalmente almeno lui ebbe il pudore di lasciare poi quella casa e di comprarsene una a prezzi di mercato. All'epoca era anche reato favorire qualcuno in questo modo, c'era l'abuso d'ufficio non patrimoniale, adesso fu depenalizzato anche perché c'erano delle inchieste su affittopoli, dal centro-sinistra e dal centro-destra insieme. Poi ci fu un'altra piccola affittopoli scoperta da Woodcock quando intercettando in una delle sue indagini si sentì il Presidente all'epoca della Regione Lazio, Storacce, che chiamava il capo dello IACP e gli chiedeva un appartamento in affitto per un'amica di Alleanza Nazionale, una certa Paola e quello dello IACP gli rispose che per l'alloggio era in elenco e quindi aveva la precedenza, un altro che stava in lista d'attesa da più tempo, un certo Zambelli che era pure lui un politico tra l'altro di Forza Italia, all'epoca erano ancora divisi, allora Storacce gli disse di Zambelli non me ne frega un amaro cazzo, adesso vedrete che Storacce sarà sicuramente in televisione a pontificare contro la nuova affittopoli della sinistra, poi vedremo se è solo della sinistra, Berlusconi non ha problemi di casa e sapete che ogni casa che ha avuto ne è nato un processo o uno scandalo, dalla villa di Arcore pagata un pezzo di pane alla Marchesa Casati Stampa, alla villa di Maccherio dove ci fu uno scandalo perché frodi fiscali sull'acquisto dei terreni circostanti, la villa Certosa in Sardegna gliel'ha venduta Flavio Carboni, quindi tutta brava gente, le case ad Antigua, sapete che c'è lo scandalo in piedi sulla banca Arner, ne abbiamo parlato, quindi non ha problemi dal punto di vista abitativo, ma Stella aveva risolto la cosa con ben sei alloggi nel centro di Roma a prezzi stracciati per sé, per la moglie, per i figli etc., l'Espresso scoprì un'altra affittopoli, Marco Lillo sull'Espresso, Casa Nostra si chiamava quell'inchiesta a puntate di qualche anno fa e c'era di tutto, c'era Gianni Alemanno, 500 mila Euro per acquistare sette vani ai parioli dalla SHIP, l'ex Ainail, Vaccini, Vaccini è attualmente nel centro-destra, all'epoca era nell'Udc, attico e superattico alla Balduina, quindici vani, due terrazze acquistati per 875 mila Euro, Cossiga, buonanima, lasciamolo perdere perché è morto, Fioroni, Partito Popolare, tre vani e mezzo delle Nasarco in via Tomba di Nerone, sulla Cassia, 94 mila Euro, manca un box auto, Loiero, l'ex governatore della Calabria, in zona Flaminia, sempre dalla SHIP, ingresso, doppio salone, tre camere e cucina, tre bagni, due balconi, 189 mila Euro, Franco Marini, ex Presidente del Senato, PD, dalla SHIP, ancora pure lui, ai Parioli, 14 vani catastali, un milioncino, Pionati, l'ex Mezzobusto che ora capitana un partito di cui l'unico deputato, deputato noto praticamente è lui, Monteverde vecchio, attico e superattico, dieci vani con terrazza panoramica su Trastevere, dalla SHIP 500 milioni nel 2001, Violante, Casa Ina, lungo Tevere e Flaminio, terzo, quarto e quinto piano, quattro camere, due terrazze, 327 mila Euro, Veltroni, la moglie da SHIP ha comprato otto vani e mezzo in Piazza Fiume, sempre a Roma, più posto auto e cantina, 377 mila Euro, sempre dalla SHIP che ha un nome e parla da solo, quando ne ho raccontato avevo raccontato anche del caso delle dimissioni per ragioni di affittopoli, di un politico che nel 2005 ha lasciato il Ministero dell'Economia perché un giornale l'aveva beccato ad abitare in un mega appartamento di servizio di 600 mila metri quadri, di 600 metri quadri, scusate, in pieno centro con la moglie e i figli e pagava 14 mila Euro al mese, ma li accollava questi soldi dell'affitto allo Stato, all'inizio aveva provato a difendersi dicendo sono povero, sono figlio di un calzolaio, mi sono fatto da soli, ma poi quel giornale ha scoperto che questo tizio nella capitale possedeva 4 appartamenti e in provincia altri due e gli aveva dati in affitto e il rimborso pubblico si può avere soltanto quando si è in trasferta per ragioni istituzionali, ma non si posseggono case in quella città, se le hai non è che le affitti e poi ti fai pagare una tua casa dallo Stato, e quindi andò in TV, chiese scusa, pianse e poi si dimise sia da Ministro e sia da affittuario, da inquilino. Questo Ministro naturalmente non è italiano, è francese, si fa, non è che il giornale che l'aveva smascherato era il Canard, Ayn Chenet e il Presidente del partito gollista che pubblicamente Cazziò Gaimard si chiamava Nicolas Sarkozy, così finiscono gli scandali di Affittopoli, non credo che ci sia stato un processo per tutto questo, c'è stata semplicemente un'inchiesta giornalistica, i fatti erano veri e il Signore se ne è andato dalla casa e dal governo. Adesso abbiamo la nuova Affittopoli che riguarda un po' il Pio Albergo Trivulzio, l'ospizio per anziani che i milanesi chiamano la Baggina, di cui era il patron Mario Chiesa, socialista che poi fu arrestato nel 1992 perché prendeva le mazzette per ogni fornitura e per ogni appalto, qui mazzette non ce ne sono, forse perché la nuova corruzione è più fluida, è più liquida, come si fa a controllare o a ricompensare o a condizionare? Si regala un affitto di favore oppure si vende sotto costo un appartamento, i privilegi concessi a Tizio Caio Sempronio diventano un modo per controllare e infatti chi ci sono in quegli appartamenti affittati a poco? Ci sono giornalisti, ci sono politici, ci sono amministratori e poi ci sono amici degli amici e quindi gente dello spettacolo, gente dello sport, gente della finanza, gente della moda perché una mano lava l'altra, non so se ci sia un reato soprattutto dopo che l'abuso d'ufficio non patrimoniale è stato depenalizzato e per quello patrimoniale si richiedono prove talmente enormi che è impossibile da dimostrare, so che c'è un caso di mal costume, i giornali del centro-destra dicono è la solita sinistra, in realtà qui di esponenti politici di sinistra non ce n'è nemmeno mezzo, c'è però una giornalista di Repubblica che è la compagna di Giuliano Pisapia, l'Avvocato di Rifondazione Comunista che ha vinto le primarie e quindi è il candidato del centro-sinistra per diventare Sindaco di Milano e dato che il Pio Albergo Trivulzio fa capo al Comune di Milano è sembrato curioso che la sua compagna sia ancora residente, anche se dice di avere disdetto il contratto qualche tempo fa, nell'alloggio di un ente che si si chiama conflitto di interessi se si può ancora usare questa parola, per il resto, poi ci arriviamo e chiudiamo su Pisapia, da chi è amministrato il Pio Albergo Trivulzio? È amministrato dal centro-destra, Presidente Emilio Trabucchi, amico intimo della Moratti, al Pio Albergo Trivulzio è impiegato Vincenzo Giudice, già Presidente della Municipalizzata Zincar che è fallita nel 2009 con un crack da milioni di Euro, infatti l'hanno messo al Trivulzio proprio per dargli un'altra chance, consigliere comunale del PDL, nel CdA c'è una certa Francesca Zanconato che è Vice Presidente ed è anche la moglie di Paolo Scaroni, nominato da Berlusconi e conservato dal centro-sinistra, Presidente e poi amministratore dell'ENI ed è anche consigliere delle assicurazioni generali e poi ci sono i riciclati come Vito Corrao, condannato in primo e secondo grado per avere pilotato appalti pubblici negli anni 90, fino 20 giorni fa era il direttore sanitario del Pio Albergo Trivulzio, che ha avuto appartamenti, quasi esclusivamente gente del centro-destra, per esempio Antonio Mobiglia, direttore generale dell'ospedale San Carlo, molto vicino alla famiglia Larussa e poi c'è una lunga lista, politologi, parlamentari come Piero Testoni che dice di aver preso l'appartamento quando era giornalista, 80 metri quadri in via Santa Marta per 8 mila Euro all'anno di canone, Daniele Cordero di Montezemolo, fratello di Luca, Piazza Mirabello, 43 metri, 9 mila euro l'anno, Guido Manca, Presidente di Metro Web, Claudia Peroni, giornalista Mediaset e per par condicio una giornalista Rai, Micaela Palmieri, poi c'è il nipote di Pillitteri, ex sindaco di Milano, dirigente del PDL Bono Core, il direttore generale della Juve Giuseppe Marotta, ma anche il dirigente del Milan per par condicio Arieto Braida, Carla Fracci, uno dei fondatori e tessorieri di Forza Italia, Domenico Loiucco, vari giornalisti, editor, oggi è venuta fuori un contratto piuttosto vantaggioso stipulato dal fidanzato della figlia di Dell'Utri, ma lei dice che naturalmente suo padre non sarebbe mai intervenuto figurarsi una persona così corretta come Dell'Utri che interviene per una cosa del genere, l'assessore regionale alla casa, Zambetti, lui ha comprato dal Pio albergo Tribuzio e ha pagato 110 metri quadri in Corso Sempione per la bellezza di 533 mila Euro, tutti i prezzi di mercato, no? Pisapia ha detto ma la mia compagna, la giornalista di Repubblica Cinzia Sasso, abita in quell'appartamento del Pio albergo Tribuzio da prima di mettersi con me, tant'è che lo occupava quell'appartamento già nel 1992 quando scoppiò lo scandalo di Mario Chiesa e loro si conobbero dopo, premetto che Pisapia, come anche Cinzia Sasso, una persona onestissima, correttissima, io non condivido quasi nulla delle sue idee politiche, ma so benissimo che è una persona onesta, corretta e capace. Il problema però qual'è? Il problema è che se sai che la tua compagna che vive non insieme a te, abita in un appartamento del Pio albergo Tribuzio con un canone piuttosto sottodimensionato e che quell'appartamento l'ha avuto per intercessione di Pillitteri, sindaco di Milano pregiudicato per Tangentopoli, coinvolto proprio nello scandalo Pio albergo Tribuzio e tu non è che ti affacci alla politica adesso, Pisapia è stato parlamentare, Presidente della Commissione Giustizia ai tempi del centrosinistra, parlamentare di rifondazione e vorrai parlare con la tua fidanzata, con la tua compagna del fatto che forse non è igienico che continui ad abitare lì, visto che immagino non si muoia di fame in una coppia dove lui fa l'Avvocato affermatissimo, il parlamentare e lei fa la giornalista inviata di un grande giornale come Repubblica, forse ci sono i mezzi per cambiare casa. Il fatto di dire ci siamo posti il problema quando mi sono candidato a sindaco di Milano, è stata una leggerezza perché avrebbe dovuto andarsene prima ma la nuova casa è ancora in costruzione, somiglia un po' a un rincorrere trafelato le notizie, tanto più dopo che si è detto che la macchina del fango si era messa in atto contro la candidatura di Pisapia, non c'era nessuna macchina del fango, c'erano i giornali che avevano dato l'elenco, peraltro consegnato in Consiglio Comunale dal PAT dopo mesi di insistenza da parte di alcuni che lo chiedevano e i nomi che sono saltati fuori sono i nomi che sono saltati fuori, non c'è nessuna fabbrica del fango, bastava essere un po' più accorti e evidentemente per fare politica ci vuole anche accortezza, ci vuole anche prudenza, non basta l'onestà personale, questo ritardo di anni nel non sciogliere quella imbarazzante situazione adesso naturalmente costerà caro a Pisapia e costerà caro a tutto il centro-sinistra e alla fine potrebbe addirittura avvantaggiare quel centro-destra che è invece infognato fino al collo, visto che il Presidente del PAT è del PDL e che quasi tutti i beneficiari di questi alloggi con affitti regalati o quasi sono di aree del centro-destra, ma a questo serve il conflitto di interessi e il monopolio dell'informazione, a prendere la pulce e a trasformarla in elefante, a prendere l'elefante e trasformarlo in pulce, il problema è che noi dovremmo avere un giorno un centro-sinistra e un centro-destra senza pulci, di modo che nessuno possa trasformarle in elefanti, credo che l'unico modo per festeggiare con orgoglio i 150 anni sia quello di ricordare chi ha fatto l'Unità d'Italia, non permettendo ai signori che stanno infangando le istituzioni oggi di pronunciarne nemmeno il nome. Qualche mese fa Massimo Gramellini che come me è un cultore di Cavour, forse perché siamo entrambi torinesi, ha scritto queste tre righe con cui vi lascio, dall'archivio di Cavour è spuntata una lettera all'alleato urbano Rattazzi in cui fra il serio e il faceto il conte denuncia il suo imbarazzo per avere ricevuto in dono una trota pescata in acque de maniali e quindi di proprietà pubblica, pensate a cosa andavano a pensare. Va detto che di scrupoli di quel grand'uomo, Cavour, abbracciavano pesci anche assai più grossi, quando il banchiere Rothschild gli propose una speculazione finanziaria sui titoli di certe ferrovie, Cavour lo ringraziò come amico, ma lo diffidò come Presidente del Consiglio dal fargli proposte che contenessero un così lampante conflitto di interessi. Quando avremo di nuovo dei politici così o quasi così potremmo dire di essere orgogliosi di essere italiani e festeggiare anche con qualche anno o decennio di ritardo i 150 anni o magari, chi lo sa, i 200. Passate parole e non perdetevi venerdì insieme al Fatto Quotidiano il nuovo inserto culturale Saturno, diretto da Riccardo Chiaverge. Buona settimana!